Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Signori, questo sicuramente sarà l'ultimo episodio per quanto riguarda questa storiella, anche perché ci rimangono da raccattare solamente 6 monetine e un cubettino. Poi ovviamente ci sarà tutto quello che riguarda la storia, da andare a vedere, a leggere, a completare, ci sarà sicuramente qualche combattimento con qualche boss, ma ci farà perdere un po' di tempo, però per il resto direi che è abbastanza fattibile. Ora, noi dobbiamo prendere questo e combinarlo con questo. Era questa la combinazione, non mi ricordo. Sì, sì, credo di sì. Sì, perché ci permette di passare attraverso le spine. Ok, va bene, dai. A posto. E devo fare spostare l'orso. Faccio spostare così mi attiva l'interruttore. L'altro lo attivo io. Eccolo, è l'ultimo ingrediente. Ci serve per l'antidoto. Vale più del suo peso in oro. Meno male che l'abbiamo trovato. Anche se in realtà il grosso del lavoro l'ho fatto io. Non ero mai stato qui. Non sapevo quanto fosse difficile questo percorso. Beh, è andato tutto bene, no? Abbiamo anche fatto una nuova amicizia. Sì, e stasera ce lo mangiamo. Dopo una fatica del genere. Com'è chi sta ancora seguendo? E se fosse una creatura magica che potrà girare la montagna? Si dice che su tutte le montagne abbiamo delle bestie magiche. Ma si dice anche che queste creature sono intelligenti e state alla larga dagli umani. Non è possibile che questo sciocchino sia magico. Non puoi saperlo. Forse il tuo clan è nascosto da pergamena qui. Perché ci abita una creatura magica. Fidati. A me sembra solo un coniglio a cui piace brucare l'erba. Però ci ha dato una mano. Anzi, è stato più utile il coniglio che tu. Non vorrei dire, quindi cerchiamo di evitare di dire stronzate, per favore. Il coniglio è sicuramente più utile di te. Soprattutto perché poi ce la possiamo mangiare alla sera. Quindi va benissimo, va benissimo. E devo combinarlo con questo, giusto? Per creare quello che ci permette di volare? No. Questo con... Questo? E che facciamo così? Spaccapietre. Ah, spaccapietre. Giustamente rompo questo. E poi vado a prendere quello. E il fiore, cos'è? Io non mi ricordo mai le combo. Aspetta perché l'arma lo dice, effettivamente. A me serve il fiore. E questo, quindi sì. Oste due possiamo andare a creare quello che ci permette di volare. Che ovviamente diamo al coniglietto. Volare. Saltare in un attimino in maniera più leggiatra. Roba del genere. Ok. Anche se comunque risulta essere molto, molto pesante. E altre due monetine le abbiamo raccattate. Andiamo a prenderci anche questo. Erba cremisi delle rocce. Perfetto. Con questa possiamo completare l'antidoto. Allora sbrigiamoci a scendere dal monte. Se facciamo tardi, il gran fantasma infinito potrebbe accorgersi che abbiamo lasciato la farmacia incustodita. La valle nebbiosa è laggiù, vero? Sì. Adesso che abbiamo valicato la cima, dobbiamo solo scendere. Non abbiamo neanche il tempo di riposarci. Vorrei che ci fosse una scorciatoia. Dove vai, coniglietto? Forse sta tornando nella sua tana. No, vuole dirci qualcosa. Giustamente noi diamo retta ai conigli che scappano. Li seguiamo. Non solo siamo stanchi, ma... Mettiamo pure a seguire i conigli. Ma nimmidu. Devo fare qualcosa? Così che crei? Ne vediamo a lui. La pillola volteggiante? Ci ha preso il gusto, eh? Ci serve? Dobbiamo solo andare in discesa. Non pensi che il coniglio stia cercando di aiutarci? Ah, è questo che mi vuoi dire? Perché ci sali in groppa? Sali anche tu. Ora che ci penso, una volta avevo trovato un sentiero laggiù mentre raccoglievo delle erbe. Davvero? Come è fatta ad arrivare fino a là? Sono rotolato a giudar di rupo? Mi stai dicendo che il coniglio sta per saltare nel burone? Esatto. È molto rapido. Precipiteremo fino in fondo. Non puoi sapere dove vuole portarci? No, no. Lo so per te. Per certo. Ci porterà a destinazione. E comunque vada. Sarà sempre più veloce che camminare in discesa. Forza, coniglietto. Andiamo. Un momento. Forse è meglio se ti aggrappi al pelo del coniglio. A destra. Vino a destra. Devo fare io? No, non lo fai. No, domani. Vabbè, dai. È stato abbastanza easy. Ero convinto di morire. Stai tranquillo. Anche se ti fai male, poi ti curo io. Anche se muori, poi ti curo io. Qualsiasi cosa. Ce la penso io. Non ti preoccupare. È tutto a posto. Nel caso abbiamo anche le pietre blu che te rianimano. Qual è il problema? Su, via. Su, via. Anche se. Pensierino a lasciarlo morto. Io lo farei. Non sta tornando per nulla utile sto tizio. Bene. Troviamo il portale e andiamo a prendere la pergamena. Ok. E... Sì. Possiamo. Non me funzionano i tasti. Me se ne sono impallati i tasti. Che cazzo. Perché non mi stanno andando... Scusate. Abbiamo un piccolo problemino di tasti. Ok. 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 Adesso funziona. Sono un attimino impallati i tasti. Credo che sia... Problema di configurazione. Eh. Vi darò un'occhiata. Vi darò un'occhiata. Eh. Portale. Ma sopra c'è stata un'altra cosa che non abbiamo potuto vedere. È... Inboscata. Tutti i vostri sforzi mi fanno solo ridere. Pensavi davvero di riuscire a fregarci? Come sapevi che saremmo arrivati qui? Non avete capito che io so tutto sul vostro piano? La ragione per cui hai seguito quello scemo fin qui è ovvia. Dammi subito la pidola sblocca potenza. Cah. La distruggo piuttosto di darla a te. Continui a non capire. Quando avrò quella pidola non mi importerà nulla di ciò che vi succederà. Mi redi. Stavolta ti proteggerò. Perché stai creando problemi? In questo posto non può avvenire chiunque. Metti da parte i tuoi rancori e vattene. Che tipo di aura emana? Non ho mai sentito di un clan che usa questo genere di potere. Se rifiuti di andartene non potrò più stare fermo a guardare. Non farmi ridere, svidato metallico. Che aspettate? Vedo che sei il capo di questa banda. Io sono storditi, facendo pressione sui loro centri nervosi. Non è una tecnica delale. Chiuderò un occhio sulle tue intenzioni religiose. Prendi i tuoi seguaci e vattene. Idioti incapaci! Alzatevi immediatamente! Chi è quel tipo? È il monaco con il corpo meccanico. Deve essere lui! Maledizione! Il piano è fallito! Ora che se ne sono andati, è meglio se ve ne andate anche voi. Ma perché dice a tutti di andarsene? È per il lucchietto? So che anche voi siete qui in cerca del lucchietto. Purtroppo, ciò che è custodito da quel lucchietto non è necessariamente un tesoro. Lo faccio per proteggervi. Per favore, fate come dico. Stai indietro, milady! È pericoloso! Cosa dici? Ci ha appena salvato! Sei tu quello che chiamano ciunreo? Come sai il mio nome? E come... Indietro! Eh? Non lo sai che questo territorio è nostro? Ora pagherai per averci ostacolato! Non capisci cosa intendo? Ciò che sta oltre è qualcosa che sapresti... Non sapresti gestire. Adesso usiamo il portale! E lui? Ora non importa! Perché ti comporti così? Perché hai lasciato indietro il monaco che ci ha salvato? Sai chi è? Sai di cosa parlava? È lui, l'uomo malvagio che ha ucciso mio padre e ha mandato il mio clan in rovina. Lui? Non sembra una persona cattiva. Agisce così, per non farci trovare la pergamena. Così il clan paradisiaco non rinascerà più. Dobbiamo aprire il lucchietto, prima che arrivi lui! Allora, è questo il lucchietto del clan paradisiaco? Esatto! Se lo apriamo, tutto si risolverà. Milady! Passami la pillola! Presto! Alt! State indietro! Potreste farvi male, se vi avvicinate troppo. Farci male? Pensavo che di dentro ci fosse solo la pergamena segreta. Oltre quell'ucchietto non c'è la pergamena segreta. Perché hai mentito? Odì il mio clan fino a questo punto? Milady! Presto! Dammi la pillola! La pillola? Che pillola hai? E se le cose stanno così, non posso dartela. Chi le due ha ragione. Se le cose stanno così, non posso dartela. Dimmi la verità. Oltre quell'ucchietto c'è la pergamena segreta? Come puoi dubitare di me dopo tutto quello che abbiamo passato insieme? Che abbiamo passato insieme? Allora dimmi cosa c'è lì dentro. Sei solo una stupida che ha provato un po' di compassione. Se ti dico di darmi la pillola, me la devi dare. Vuoi davvero usarla per aprire l'ucchietto? Finalmente è nelle mie mani. Ora posso smettere con questa farsa. Fermati! Sempre l'ucchietto! Shen cadrà in disgrazia! Zitto! Io non c'entro niente con la caduta di Shen. Che potenza straordinaria! Devo ammettere che sei proprio abile nella raffinazione. Perché lo fai? Vuoi sapere perché? Non voglio una vita da maestro del clan paradisiaco decaduto. Quelli del fantasma infinito mi hanno promesso una bella ricompensa per la pergamena segreta. Con questa pergamena otterrò potere e ricchezza. Il clan paradisiaco? Ti ha detto il clan paradisiaco? Mi riconosci? Sono Ungul, figlio dell'artista marziale che tu hai sconfitto. In realtà dovrei ringraziarti per avermi dato quest'occasione di rivincita. Bastardo, eri uno di loro. Hai pianificato da subito di imbrogliarmi? Non mi dai la pillola, quindi ho dovuto inventare una storia. Ti ho spiegato gli effetti collaterali. È una minaccia? Tra poco faranno irruzione quelli del fantasma infinito che hanno circondato la zona. Se vuoi vivere, tieni un antidoto a portata di mano. Prima prendo la pergamena. Ok Ma all'interno ovviamente ci sarà pure un mostro o qualcuno comunque di cazzo che è cattivo che gli farà il culo con tutto che si è preso la pillola perché è un nabbo questo. Ma che? Questa non è la pergamena segreta delle arti marziali. Si mette male. Che cos'è? È uno spirito maligno, antenato dal clan paradisiaco. Uno spirito maligno? Era una persona eccezionale che aveva persino inventato una tecnica sua. Ma era ossessionato dal potere e per questo il clan lo ha rinchiuso insieme alle sue arti marziali. Ha provocato il panico e doveva essere imprigionato. Ah, mi ha preso il controllo. Vabbè, almeno si rende utile, no? Fai il boss di questo stage. Su, via. Da quanto tempo era che non prendevo una boccata d'aria fresca? Che codardi. Mi hanno rinchiuso per paura dei miei poteri. Stavolta sottometterò tutti i clan e raggiungerò l'apice del potere. Non succederà mai. Ah, e tu che facevi la guardia all'occhietto? In pochi hanno usato affrontarmi. Hai coraggio? Molto bene. Dimostrerò la mia forza. Gli ha fatto un'onda energetica. Attenzione, anche lui fa un'onda energetica. E qua è uno scontro di onde energetiche. Gialle e rosse. Non c'è manca a gol. Beh, niente male. Chissà per quanto tempo riuscirai a resistere. E te dai? E questo è il potere della pergamena segreta? No. Questo è il potere dello spirito mamigno. Se posso acquisire più potere non importa se arriva da una pergamena o da uno spirito mamigno. Levatini mezzo. Te lo chiedo gentilmente. Non te lo permetterò. Combattiamo noi? Ah no, ecco. Puoi scegliere se preparare medicinali per il mio clan oppure morire. Mettiti in un angolo e osserva. Ora mi sbarazzerò di quel monaco. È arrivato anche il coniglietto? Tu sei il coniglietto che ha seguito la farmacista. Mi stai attaccando per proteggere la tua padrona? Ma se gommia quando vuole sto coniglietto. Sparisci e vai dalla tua padrona. Ok, anche il coniglietto è stato abbastanza inutile. Stai bene? Stai risprendendo? Ti sei curato? Sei davvero un coniglietto magico? Scappa finché puoi. Quello spirito è fuori controllo. Io morirò oppure sarò obbligato a produrre medicinari per il clan fantasma infinito. Prima di munire potrai ingoniare questa pillola, sblocca potenza e suonati da quei bastardi. Ti ho detto di scappare. Prima che finisci in mezzo anche tu. Anche se sei una creatura magica che protegge questo posto, non devi mischiare la tua vita. Aspetta! Sei una creatura magica? Forse possiamo uscire nei miei entrambi. La pillola è ancora incompleta. Ma è con il tuo nucleo animale, potrebbe amplificarne l'efficacia. Forse riuscirò a fermarli. Ma la tua energia verrà compromessa. Vi ha dato il nucleo? Posso usare il tuo nucleo? Grazie, li sconfiggerò. Ok. La pillola sblocca potenza è completa. Ok, tocca a me. Ora, ve la faccio pagare. Ma non se ne aveva mangiato quella pillola sblocca potenza? Che ne ha un'altra. Col potere è l'unica possibilità per rendere il clan ancora più forte. Non ti permetterò di rinchiuderlo. Non te lo farò passare liscia. Sono venuto ad aiutarti. Che facciamo? L'onda energetica è ancora più grossa? Stai usando la tua aura! Ok. E quindi? Hai preso la pillola per avere quest'aura? Ne parliamo dopo averli sconfitti. Mene! Hai preso la pillola per afforzarti? Fa niente. Affrontare due avversari è più avvincente. Fatevi sotto! Ok. Quindi possiamo finalmente combattere e fare roba. E... Vai! Oh, cazzo io mi devo abituarmi un attimino. Trovo i nomandi qua. Vuol diremo? Probabilmente sì, perché me lo sono impallato. Che fa lei? Lancia la onde. È sicura? Ho difficilissimo combattere con mouse e tastiera. Fottutamente difficile. Devo farci un attimino la mano. Comunque uno l'abbiamo fatto fuori. Adesso cerchiamo di fare fuori l'altro. E non manca tantissimo. Riusciamo comunque a devastare. Quindi va benissimo così. Purtroppo non riesco a connettere il pad. È un mero casino. Cioè, l'unica cosa che riesco a fare col pad è muovere il mouse. Devo controllare meglio le impostazioni e capire un attimino. Se avete suggerimenti su come utilizzare Bluestap, fatemi sap in un commento. Perché è la prima volta che lo utilizzo. E... Non so, devo smanettare un attimino con le impostazioni. Nel caso fatemi sap come collegare il pad per giocare. Senza che mi si muova solo il mouse più che altro. Che ho provato, però non sono riuscito. Devo smanettarci un attimino. Ora ti faccio vedere perché gli anziani del clan mi hanno... Mi temevano e mi hanno rinchiuso. Ah, i miei meridiani! Che sta succedendo? C'è un problema con il mio corpo. Mi chiedevo come avesse fatto ad aprire l'occhietto con le sue arti marziali. Ora ho capito che è stato grazie alla pillola. Non mi resta altra scelta. Cosa? Mi serve la tua aura interiore per controllare i miei meridiani. Devi essere onorata di aiutarmi. Non hai paura del clan fantasma infinito? Anche se io morissi, loro... Si mette male lo spirito. Sta assorbendo la sua aura. Non c'è modo di fermarlo. Sta usando la sua tecnica di difesa che non possiamo contrastare. Se ti insegni una tecnica, vuoi attaccarlo con me? Se possiamo fermarlo, allora lo faccio. Bene, allora... Potrebbe essere un po' complicato. Ma tu hai talento per le arti marziali e impari in fretta. Abbiamo poco tempo. Cerco di velocizzare. Beh, mi ha dato un bel caccio. Un clan del fantasma infinito. Mai sentito. Pensi che un esperto come me si faccia intimidire da un clan del genere? Attacco congiunto? Non male come idea. Ma non cambia nulla. Tutto bene? Sto bene. Tutto qua? Se vi rimane ancora un po' di energia, tiratela fuori. Ok. No problem. Non ne hai ancora di energia, eh? È raro incontrare un avversario così forte e farmi divertire ancora un po'. Sparisci! I tuoi movimenti sono migliorati, ma sei ancora impacciata. È assurdo che è presente di affrontarmi con delle arti marziali che hai appena imparato. Lo vedremo. Che coraggiosa. Ti farò a pezzi. Ok, un altro scontro. Quindi cerchiamo di devastarti l'anima. Eventualmente. Vai. Dai, attacca. Attacca. Schiva. Non riesco a schivare proprio per un cazzo. È difficile. Ok. Però adesso possiamo utilizzare questi attacchi che prima non potevamo. Quindi... Cioè, non c'era modo. Schiva. Bravissimi. Bravissimi tu. Non è vero. Non abbiamo schivato neanche per un cazzo. Vai. Ok. Fai qualche pugnetto. L'importante è non morire. L'importante è non morire. Cazzo. Via, 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 via. Fai così. No. Vai, vizion. Attaccalo male. Se non riesco a stunnare un'altra volta è fatta. Lo riusciamo a stunnare. Ok. Vai tu. Non ho fatto io l'attacco. Adesso lo fai tu. Peccato che non riesco a fare le combo. Però va benissimo così. In un modo o nell'altro siamo riusciti a farlo fuori. Avete bloccato tutte le mie mosse. È impossibile. Che cosa siete? Io sono nessuno. Tempo fa ero affiliato al clan paradisi. Paradisiaco. Io sono Wingling, la farmacista. Non posso rendermi. Mi serve altro tempo. Non avrai altre occasioni. Credi davvero che ti lasceremo riprendere le forze? Torna al tuo posto. Lo sapete quanto ci ho messo ad arrivare qui? Non può finire così. C'è l'etteroniti. Pensate di battermi con questa tecnica mediocre? Sparisci, mostro. Ok. Clicchiamo compulsivamente. Però schippiamo pure compulsivamente. Tornerò per vendicarmi. Forse l'ultima cosa che faccio. In futuro lo riaffronteremo? Chissà. Chissà. Per il momento l'abbiamo eliminato, bloccato. Ah, il mio nucleo energetico. Te l'avevo detto che serve l'antidoto per non danneggiare i meditiani. Dammi l'antidoto. L'antidoto? Non preoccuparti, non morirai. Ma il tuo nucleo energetico è compromesso. E non diventerai mai esperto di arti marziali. Che cosa? Mi redi? Cioè, signora, io ero accecato della vita e ho sbagliato. Ti prego, dammi l'antidoto. Come faccio a vivere senza le arti marziali? Ti supplico. Ho la medicina per te. Tranquillo? La medicina per te. Ah, meno male. Che cos'è? E che cos'è che sia? Sono botte. Come dicevano i nostri antenati, la miglior medicina per quelli come te sono le botte. Per favore, calmati. Tieni unita al clan Vipera per la vita. Ma anche quello è stato un fallimento. Clan Vipera? Ma se era il clan del fantasma? Il cazzo c'entra del clan Vipera? Mi scusi, ma sei un attimino ubriacato? Vabbè, vabbè. Penso che ci saranno provvedimenti per quello che hai fatto alla vice del clan fantasma infinito. Sei più furbo di come sembri. Non puoi. Abbi pietà di me. Non facevi parte anche tu del clan paradisiaco? Sei un membro anziano del clan. Non devi saldare il tuo debito con il clan? Tu padre mi ha espulso e ha distrutto il mio nucleo energetico. Membro anziano del clan. È un titolo eccessivo. Puoi anche rimangiartelo. Ti abbiamo solo espulso. Non ti abbiamo mica ucciso. Non sarei sopravvissuto se non fosse stato per il mio maestro. Pensavi che il clan sarebbe andato avanti comunque dopo che l'avevi distrutto? La sua reputazione è rovinata e il clan si è sciolto. Se non fosse andato in rovina, in quel modo non avrei fatto queste scelte. E' stato l'allievo più anziano a disgregarlo quando ha architettato questo piano malvagio per diventarne il capo. Avresti potuto ricostruire il clan. Se non l'avessi abbandonato non sarebbe andata così. Giusto? La gente come voi non capirà mai. Non capite cosa significa essere l'erede di un clan decaduto. Pensi che per noi sia stato tanto facile? Controlla la rabbia. Ero orfano e il maestro precedente mi ha accolto nel clan e mi ha insegnato le arti marziali. Per sdebitarmi, ho voluto onorare la sua ultima richiesta di proteggere questo lucchietto. Visto che ho compiuto il mio dovere, non ho più legami con il clan paradisiaco. Wungul, risolvi la questione da solo. Aspetta, ma vuoi lasciarlo a vivere? Non mi sembra giusto. Andiamocene. Mi hanno portato via tutto. Tutta colpa di Ciurreo e di quella donna. Non affonderò da solo. Ti ho dato una possibilità. Com'è possibile? Oh, hanno sigillato lui. Per la scontagine, non per la forza ovviamente. Oh, e finalmente ce lo siamo tolti dal cazzo, signori. Cioè era pure ora, dai. Wow, è stato impressionante. Ti ha dato una spina, ne ha fatto chissà quale cosa. Che cosa gli succederà? Niente, è rimasto lì imprigionato a vita e non romperà più i coglioni. Ah, nessuno si spera per l'eternità. Cioè, quello che avevamo evocato prima perlomeno era forte. Questo no, questo è di idiota. Ok. Quindi? Non sei soddisfatto? Ho avuto un rapporto complicato con i suoi genitori. Non posso nascondere l'amarezza che mi ha lasciato questo finale. Non hai già sofferto abbastanza a causa dei suoi genitori? E l'hai perdonato lo stesso. L'hai salvato dallo spirito maligno e gli hai dato una seconda possibilità. Quante possibilità gli darai ancora? Le persone come lui non cambiano. Hai ragione. Sono mortificato per i problemi che ti ho causato. Non c'è bisogno di scusarsi. Hai imbrogliato anche me. Comunque, sono contenta di aver completato la pillola sblocca potenza e di aver imparato le arti marziali. Ho sempre pensato che gli artisti marziali facessero di tutto per diventare più potenti. Ma dopo averti conosciuto, mi sono ricreduta. Mi fa piacere. Tante persone, oltre me, si impegnano per rendere il mondo un posto migliore. Il nostro lavoro non è finito. Hai detto che Nanok è la vice del cron fantasma infinito? Se si viene a sapere cos'è successo qui, molta gente verrà a cercarti. Ho perso l'esperanza di gestire una farmacia tranquilla. Dato che il clan paradisiaco e io siamo responsabili di quanto ti è accaduto, ti proteggerò se lo vorrai. Non potrai proteggermi per sempre. Che ne dici se diventassi tua allieva? Mia allieva? Sei sicura? A differenza di te, io sono soddisfatta solo quando ottengo la mia vendetta. Aiuterò le persone che hanno sofferto come me. Ne sei sicura? Il clan continuerà ad esistere. Oggi ho finalmente completato la pillola sblocca potenza. Se non ce la farò da sola, avrò degli allievi che mi aiuteranno e raggiungerò comunque il mio obiettivo. Avere degli allievi è impegnativo. Non lo sto sottovalutando. Voglio solo eliminare la gente come Fung Ghul. Non penso che sia l'atteggiamento giusto. Come il fiume Shen che scorre sempre verso est, per quanto si snodi. Se davvero vuoi salvare l'umanità, io ti proteggerò. Allora, mi prendi come allieva? Che tipo di arti marziali mi insegnerai, maestro? Non ci ho ancora pensato, ma... Non hai neanche una mossa da insegnarmi? Ci sarebbero le arti marziali del pugno del Monte Shen, del mio maestro drama. Cos'è? Mi stai ingannando anche tu? A te la scelta. Aspetta! Non ho rifiutato! Allora, sono una tua nuova allieva? Aspettami! Ok. Il coniglietto si è un attimino ripreso? Ah, ce lo portiamo a casa, così ce lo possiamo mangiare giustamente. È ferito, quindi che fai? Oggi devi morire e te lo mangi! Ci siamo. Ci mancava ancora della roba da prendere, giusto? Sì. Non credo che abbiamo preso tutto. Non ne pare. Abbiamo ottenuto solo una stella, ci mancava ancora un cubettino e un'altra cosa. Ora entriamo e completiamo lo stage al 100%. Allora, ci restano da raccattare quattro monetine e un cubettino. Ci ha riportato nuovamente all'inizio. Ricordo che c'era qualcosa con questa fonte d'acqua che apriva un passaggio. Però, non so, visto che lui è un vecchietto e parla per l'appunto di questo passaggio, se non si riferiva a quello dove c'è stavano sti vecchietti che insomma abbiamo affrontato nel primissimo episodio. Abbiamo fatto roba con loro, quindi credo che si riferisca a quel passaggio. Però ci manca ancora un cubettino e stai quattro monetine che non so dove stanno. Allora, questa qua è la fine. Ok. Di qua non me posso buttare come se buttate il coniglietto. Ah, e questa era la zona che era bloccata. Io non potevo passare da qua, era chiuso. Però, scusa. Posso fare così e darla a lui? No? Non posso? Peccato, peccato. Quindi sotto sicuramente non ci siamo persi nulla. Ma me devo fare tipo tutto il giro e trovare quello che a me so perso. Vabbè, magari ci rivediamo non appena trovo qualcosa di interessante. Ok. In realtà qua sembra proprio che ci sia un passaggio e qua c'è un pozzo, credo. E' un secchio con cui puoi raccogliere dell'acqua. Prendilo. Non è un pozzo ma era un secchio. Ma va bene comunque. E di qua possiamo saltare perché c'è un passaggio segreto nascosto. Ok. Monetine. Potevamo completarlo anche prima, ma... Salve. Gatto. Devo rianimarlo, devo fare qualcosa? Acqua sotterranea ghiacciata. Prendi l'acqua con il secchio. E rilanciamo l'acqua in faccia. Miau. No? Non ha funzionato come si deve. Quindi questo, con questo, possiamo rompere queste. Ah, perché là c'è l'altra acqua. Quella mi sa che è un attimino più importante come acqua. Acqua termale bollente. Prendi un secchio d'acqua. Vabbè, con questa devi muovere. Ah, ramma. Ok. C'è sta. Grazie per l'aiuto. E sono caduta nell'acqua fredda. E mi sono trasformata in un gatto. Cioè, lei dovrebbe essere tipo un shampoo. In questo caso è rinse. C'è sta l'acidazione. C'è sta. Dove eri? Ero preoccupatissimo. Come hai fatto ad arrivare qui? Ah, lui è quello con gli occhi. Sì, sì, ok, ok. Adesso non mi ricordo i nomi, però. Ramma. Su via. Subito. Va bene. Quante volte te lo devo dire? A me piacciono le persone forti. Smettila di seguirmi. Sei tu che hai salvato la mia adorata rinze? Eh, sì. Ho spruzzato solo un po' d'acqua in realtà, quindi nulla di particolare. È così che rinze è tornato mana. Questo è per aver salvato rinze. Grazie per il tuo aiuto. Prego. Si figuri, si figuri. Ti dimostrerò la mia forza, vedrai. Ok. Mi sono preso il cubettino, ma ne mancano ancora due monedine. E abbiamo un problemino. Do stanno le monedine mancanti? Cioè, questa zona, ok. Dove me le sono perse? Ok. Questa cosa la potremmo fare qua e qua. Cioè, serve per capire che c'è un passaggio o no? Non... Gli abbiamo semplicemente mandati via. Non posso fare nient'altro. Va bene. Ok. Mi mancano ancora le due monedine, però. Eh, mi sono rifatto un altro giro, se ve lo state chiedendo. No, non li ho trovate. Dove cazzo stanno queste due monedine? Perché te le devono imboscare così? Cioè, dai che... Già la storia era lunga. Ci mancavano pure le monedine imboscate. Ma siamo seri? Ma è possibile che non c'è sta nulla, nemmeno qua, tipo... Nascostissime qui. Niente, eh. Che volte... È facile, a te le imboscano anche nei passaggi segreti, senza che tu le vedi. Maledizione. E quindi non posso fare nulla. Guarda dove erano imboscate ste maledette. Li ho visti con la coda degli occhi, questi cespugli. Forse questi li avevo rotti, ma questi proprio erano imboscatissimi in quest'angolo. Ma dimmi tu. Cioè, due ore e mezza a girare non avevo rotto sti cazzo di cespugli qua. Ma se può, ma se può... Sciamala so stage. Veramente. Mi ha distrutto la parte finale. Mezz'ora, signori. Mezz'ora. Solamente per riuscire a trovare due monedine. Perché le altre con il cubettino le ho trovate anche abbastanza facili. Ok. Dunque. Storiella completa al 100%. Ci sarebbe ancora una cosa che io non ho mai fatto in game. Ovvero, benvenuti al caffè Succubus. È uno di quegli stage che non l'ho mai giocato. Cioè, gli altri sì. Non so se qua adesso dovrei fare roba. Perché c'erano alcuni che poi li hanno riproposti. Non mi ricordo se poi li ho ricompletati tutti. Ma questo non l'ho mai giocato. E volendo, in attesa di nuovi eventi, potremmo anche rigiocarci. Giocarci questo per la prima volta. Non l'ho mai fatto. Anche perché le storielle, diciamo, sono uscite. Soprattutto questa, quando ancora avevo un casino di mondi da completare. Proprio a inizio, inizio. Guardian Tales. E queste le ho lasciate proprio di lato. Non credo nemmeno di averle giocate tutte con voi. Non ricordo se ho portato i video di tutti. Sicuro di questo no, perché non l'ho mai giocato. Vedremo. Magari lo porterò sul canale. In ogni caso, like, condivisioni, iscrizioni. E non dimenticate di iscrivervi sia al canale, sia di entrare nel server Discord, che nel canale Whatsapp. Trovate tutto in descrizione. Vi ricordo che a breve partiremo con le live. E detto ciò, noi ci riveniamo ad un prossimo video. Alla prossima, ciao a tutti! Ciao a tutti!